La situazione quando parliamo della manovra che temiamo, perché non capiamo dove prenderà 25 miliardi, solo 10 prende 80 euro per promesso, però se le riforme le vanno dalla partita secondo me non è giusto perché il paese non è tattico politicamente, mi spiego meglio, proprio adesso che nel PD vediamo grandi fibrillazioni, vediamo i suoi senatori che lo criticano ogni giorno e che quindi noi di Forza Italia saremo ancora più determinati, noi ci sfidiamo, io lo ritengo tatticamente sbagliato e comunque sbagliato per il paese, perché magari non è la riforma migliore ma comunque una riforma. Lei la maldita sa come se la dovrebbe vendere, sì, lo so, grazie. Lei la maldita sa come se la dovrebbe vendere, sì, lo so, grazie. Lei la maldita sa come se la dovrebbe vendere, sì, lo so, grazie. Lei la maldita sa come se la dovrebbe vendere, sì, lo so, grazie. Cosa succede venerdì? Sì. Cosa succede venerdì se ci fosse una condanna di Berlusconi? Guardi, noi stiamo aspettando e politicamente sicuramente, se lo sa, attraversiamo da tempo questo clima che sicuramente non è congeniale, però io credo che non cambierà la posizione del mio partito, del mio movimento sulle riforme, se questa è la sua domanda noi continueremo secondo me a essere assolutamente sulla partita riformista. Non credo perché si può sempre fare di più.